Ebbene sì ragazzoli, dal 13 dicembre cambia tutto. Io sono Grax, bentornati su Clash Royale perché dico cambia tutto perché uscirà l'aggiornamento che dividerà le torri rispetto a come le conosciamo ora, cioè vedete sotto our deck sta il nostro livello di torre, il livello 15 corrisponde alla torre del re e di conseguenza anche alle torri della principessa. Dal 13 in poi non sarà più così perché le torri della principessa diventeranno truppe delle torri che si potranno cambiare in base a quello che vogliamo, cioè presuppongo che prima di entrare in partita selezioniamo la torre che vogliamo in base al nostro deck. Ne parleremo in questo video a mente fredda perché ieri è stata una reaction abbastanza fast, oggi invece andiamo più nel dettaglio con quello che abbiamo a disposizione perché ancora non abbiamo l'applicazione sviluppatore. Poi dopo rimanete sintonizzati perché il Grax andrà a fare le primissime partite a livello 15 nel competitivo, le coppe vi ricordo non sono competitivo perché non ci sono reset, stelli e stop. Nei gradini invece ogni mese si resetta, ci stanno le medagliette e quindi la gente scala e lì che ci sono i premi. Voglio giocare il mio 2.6, ci ho messo un bel po' di tempo per fare l'elite, tutto elite nel cammino di trofei che conta. Seguite tutto il video, dato che parliamo di livelli 15, torri 15, mi raccomando 15.000 like, iscrivetevi e campanella. Grax 100% onesto vi parlerà di tutto quello che abbiamo visto ieri e lo so che ci possiamo arrivare 1.750.000 entro fine anno, sarebbe un traguardo pazzesco, dipende da voi, iscrivetevi. Codice Grax alla Fiollo Shop, super se sto in descrizione, codice Grax 10% di sconto. Tornando al discorso livelli 15, quello che sappiamo è che le torri della principessa diventeranno truppe delle torri, quindi una rarità se avete visto la carta col merletto, tra poco ci andiamo. La torre del re a questo punto credo rimanga invariata, salvo futuri aggiornamenti e qui Grax fa una sorta di illazione che potrebbe in futuro magari pure verificarsi. Chissà se dopo le truppe delle torri vedremo la carta dei re, perché noi abbiamo i campioni, che sono quelli che mettiamo in campo con l'abilità, ma non abbiamo i re, ovvero coloro che stanno nella torre al centro. Al momento abbiamo il re umano di Clash Royale, magari in futuro potremo sostituire il re umano al re goblin, al re dei domatori. Se la Supercell m'ascolta lo fa, ve lo dico perché ci sta alla grande, immaginatevi poter personalizzare la combo di torri laterali con la torre centrale in combo col proprio deck, cioè diventa un qualcosa di pazzesco. Però questa in illazione non c'entra niente, parliamo di cose tangibili, andiamo nel TikTok. Eccoci qua, perfetto, perché voglio fare questo video? Perché voglio analizzare bene ragazzi il discorso delle truppe, dato che ci sono i classici pareri discordanti, ovviamente metto le mani avanti, è impossibile mettere d'accordo tutti, perché se il gioco non lo cambi hai le persone che ti dicono Eh ma stiamo giocando un gioco sempre uguale e quindi vogliono aggiornamenti. Nel momento in cui lo cambi hai i tradizionalisti che ti dicono No ma io non voglio le novità, voglio il gioco che ho sempre giocato. Partiamo dal presupposto che è impossibile avere il 100% della torta, facendo una cosa o l'altra comunque scontenti una parte, accontenti una parte, viceversa, lo sapete. La Supercell per quanto riguarda Clash Royale a distanza di a marzo sono 8 anni, sta cominciando a spingere con gli aggiornamenti, sta facendo vivere una seconda vita Clash Royale perché per quanto mi riguarda Clash Royale con questo aggiornamento a partire da gennaio, perché il 13 dicembre credo che sia solamente una sistemazione del gioco attuale e poi dopo il vero aggiornamento arriverà a gennaio penso, diventerà, parere mio, Clash Royale 2. Vi ricordate che vi facevo tutti quanti 2.0, 3.0? Ve li riassumo, il Clash Royale 1.0 è stato quello all'inizio classico con le truppe non evolute, senza i campioni, con le torre tutte statiche, Clash Royale 1. Poi dopo c'è stata l'aggiunta dei campioni, l'avevo etichettata come Clash Royale 2.0, in realtà quello è l'1.2 secondo me, l'aggiunta delle evoluzioni l'1.3 invece che il 3.0, l'uscita delle Tower Troops fanno diventare Clash Royale 2.0 e mo' ve lo spiego, c'è proprio 2, fisso. Andiamo avanti nel video, qui si vede credo la prossima Tower Trooppa, ok, qui, ecco, volevo arrivare a questo punto qua perché mi era sfuggito un dettaglio che poi abbiamo analizzato in live, vengono richieste 1.500 carte per il livello 12, che è l'equivalente esatto di una carta comune, perché poi il livello 12 per il 13 richiede 3.000 carte, dal 14, scusate, dal 13 al 14 5.000 carte. Ma quello che penso io è che questa carta non possa ricevere i giolli comuni, quindi vedendo questi numeri abbastanza alti, credo che queste torri delle truppe vadano all'interno dei bauli. Ed è per questo che vi ho dato il consiglio di non aprire le cose e tenerle in vista della prossima stagione, perché sapremo la possibilità di trovare nei bauli anche le truppe delle torri, se abbiamo da parte dei bauli belli sostanziosi, come quelli magari anche del pass, riusciamo a spingere forte il momento di troppe dell'aggiornamento perché facciamo il box opening. È una supposizione, sicuramente se avete l'account maxato non ha senso aprire la roba adesso, piuttosto che aprirla dopo l'aggiornamento. Non fa una piega, no? È un'idea di Grax. Come si vede bene qui, la principessa comprende entrambe le torri. Non è detto, magari in futuro si splitteranno le due cose e potremo addirittura personalizzare la torre di destra con la torre di sinistra, nel senso da una parte metto la principessa, dall'altra parte metto quello col cannone. Sarebbe folle, cioè significa che la destra la difendi in un modo, la sinistra in un'altra. Non lo so qual è la direzione di Clash Royale, ma se in futuro hanno intenzione anche di cambiare il King che al momento è statico e non ha la carta, potrebbe essere un futuro possibile. Siamo in un multiverso di cose dove la Supercell sta spaziando, facendo modifiche, aggiornamenti. Vedremo. Quello che sappiamo noi è che sicuramente, vedete c'è sta il cursore di Grax, arriverà la principessa con una rarità a sé, e lo vedete dalla sagoma della carta coi merletti, non credo ci possano andare quindi i jolly comuni, non penso, speriamo, ma non penso. Si può modificare, ci stanno le info, questa qua è la truppa della principessa, vi ricordo che se loggate adesso ve la sblocca instant, scusate, quando uscirà aggiornamento ve la sblocca instant a livello della torre del re, quindi se state quasi per livellare a livello 15, spingete in modo tale che vi da subito la torre a livello 15. Non so se me so spiegato, altrimenti poi dovrete prendere le risorse per farla a livello 15. Il punto a cui io voglio arrivare è questa situazione qua. Vedete, in alto ci sta questa sorta di... boh, cannone, non lo so, si vede bene da qui perché poi è una figura oscurata, non è proprio total black, se vede la corona sopra la W. A me mi sembra uno che tiene una sorta di cannone cicciotto con un buco gigante sopra, ed è quello, credo, che sta sparando queste cannonate al gigante. Molti hanno detto, ecco, è normale, questo è fortissimo, fa danni magari a Splash, tutti metteranno questa nuova truppa piuttosto che la principessa. Secondo me, ragazzi, non è detto, perché credo, come in teoria dovrebbero essere bilanciate tutte quante le carte di Clash Royale, saranno, spero, poi la Supercell non ci riuscirà mai perché, lo sapete, è impossibile bilanciare tutto e loro spingono per una carta per farcela scioppare e poi dopo ricambiano tutto quanto, ma in un sistema ideale dove Clash Royale è tutto quanto bilanciato, come abbiamo le carte bilanciate, anche le torri saranno bilanciate. E questo che significa? Che ogni torre avrà la propria particolarità. Mi sento di immaginare una roba del genere, cioè, tipo, la principessa ha un certo DPS, una certa velocità di colpo, riesce a colpire singolarmente, velocemente, qualsiasi tipo di truppa, questo signore core cannone potrebbe avere un DPS più lento, ma che ti fa danni ad area di terra e non colpisce le truppe aeree. Io sto fantasticando. Cioè, che cosa sta a significare? Che noi avremo la possibilità post-aggiornamento di scegliere qual è la torre che si addice meglio al nostro deck. Cioè, adesso entriamo su Clash Royale scegliendo le otto carte andiamo a giocare. Post-aggiornamento, quello di gennaio, dove ci sarà la possibilità di scegliere, perché adesso con le singole torri delle principesse non cambierà niente. Da gennaio bisognerà costruire dei deck in funzione delle torri. Ed è per questo che, vi dicevo, inizierà una nuova era Clash Royale 2.0 fisso. Anzi, Clash Royale 2. Ipotizzo, questa torre fa danni ad area. Puoi permetterti di togliere la torre bombardiera e mettere magari una struttura che fa più danni singoli, tipo una Tesla. Allo stesso tempo ti cambia il deck, perché se questa torre non fa danni aerei, ma fa molti più danni ad area di terra, puoi diminuire le difese di terra e concentrare le tue carte, per bilanciare ovviamente il tutto, con un danno aereo. Cioè, magari ti metti una flea machine, ti metti gli sgherri, una roba del genere. Nel senso, le torri saranno un qualcosa che andranno a personalizzare il gameplay e a renderlo molto più randomico. Perché se prima entravamo in partita, cioè se tuttora entriamo in partita, Grax 2.6 avversario cimitero, 100-0 vince la cimitero, a parità di skill. Con il prossimo aggiornamento, se Grax ti entra col domatore e l'avversario c'ha la cimitero, ma c'ha le torri sbagliate, è possibile che Grax non subisce il 100-0 della cimitero, ma magari va leggermente in vantaggio, perché lui utilizza una torre che fa solo danni aerei. La butto là. Rende il tutto molto più particolare. E secondo me ci sta, è un'evoluzione del gioco. Certo, sommare tutto, questo, le evoluzioni, ci vorrà un po' di tempo per prendere il ritmo. Anche all'inizio le evoluzioni sono state un crack di Clash Royale, ma ve l'ho detto. Questo è il punto più basso, poi dopo si va a salire. Questa cosa farà la stessa identica evoluzione delle evoluzioni. Capisco i tradizionalisti, che ovviamente non vogliono cambiare, vogliono tutto quanto uguale, Ma era la stessa identica situazione della ladder. Prima tutti quanti si lamentavano dello script. Nel momento in cui hanno messo la ladder megadraft, tutti quanti si sono lamentati della megadraft e sono tornati indietro. L'evoluzione all'inizio spaventavano, adesso sono state accettate. È un'evoluzione del game. Lo dobbiamo accettare, la Supercell ha fatto queste scelte. Secondo me è una grande meccanica che rende il tutto un pelettino meno scriptabile. Ci sono più fattori che possono cambiare i deck. E lo gioco che i deck meta si costruiranno nel momento in cui questa roba verrà droppata, I pro player ci giocheranno, 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 e avranno l'esperienza per dare delle sentenze su Queste carte, queste otto carte sono buone in combo con questa torre, quest'altra otto... Cambierà tutto. E a me ste cose, regà, non lo so, io sono più propenso al cambiamento. Boh, me mettono un hype allucinante. Cioè, chissà se faranno la torre del domatore, il principe domatore, infinite possibilità. E occhio, quello che vi ho detto all'inizio della torre del king potrebbe cambiare in futuro. Possono switchare tutto. Vi giuro, non mi sarei mai aspettato una roba del genere dal team di Supercell che di solito i propri giochi non li cambia mai, cambia qualcosetta. Clash Royale sembra l'unico gioco dove veramente le cose possono essere stravolte. Se la rischiano, perché sanno che, boh, la base è buona e funziona. Forse mi so dilungato un po' troppo col Talkabout, ma un match, anzi, due match li facciamo nella ladder livello 15. Non posso prendere il Jolly Legend, perché poi dovrò fare un'altra carta elite, la vedrete nel video di domani. E sto quasi a 400.000 Jolly Legend. Altra cosa importantissima questa sera, live di Clash of Clans in vista del TH16. Non mancate YouTube, TikTok, Twitch, tutto sempre in descrizione e tutto in sincro. Livelli 15 ladder. Cioè, immaginatevi il Grax che ti entra in partita. Cavolo, o puoi beccare le torri col cannone, le torri con l'arciere. Cambia tutto, vedrete che creerà un hype da novità allucinante. Io mi sento di fare gli applausi sulla meccanica. Come ho fatto gli applausi per le evoluzioni, perché hanno praticamente ridato vita a tutte quante le carte di Clash Royale. Poi, al 100%, ti vado a criticare il metodo con cui droppano questa roba, perché se tu lo rendi totalmente per the win, è normale che quello è un problema. Ma le evoluzioni al momento, ragazzi, sono un successo per la meccanica. Un flop totale per come riscattarle, perché ne può prendere una Jolly al mese e tre generici di quattro ere prima nel negozio stagionale. Cioè, è una roba abominevole. Occhio, perché qui quella mongolfiera può farmi veramente male. Il domatore però fa male. Attenzione, non so se mi conviene tirare la fireball a mongolfiera a 15. Ci poteva anche stare, prendo torre sinistra. Sono leggermente in vantaggio. Il moschettiere che cambia lane, bellissimo. Riesco a fare un pushetto di Warcrider? Secondo me no. Grax, stai calmo, per fortuna che non ho tirato niente. Ci provo, metto Skelly, metto Gongi. Lui ha sicuramente il log. Oddio. Mamma mia, c'è far congelino. Vabbè, poi pure la snowball, eccetera. Con estrema calma cerchiamo di gestirla. Io sto parlando del futuro di Clash Royale, mentre gioco una partita di 2.6 di livello 15, prima volta nella storia, per quanto riguarda la ladder. È un video mistico e l'unica cosa che vi chiedo in cambio è di lasciare un super like. Non ho capito quella fireball. Lui qui può mettere qualcosa. Ma ha preso torre, ma non posso rischiarmi il moschettiere. E allora vado col golem del ghiaccio. Ci metterò degli Skelly. Questa giocata non l'ho capita, sono sincerissimo con voi. Moschettiere. La mongolfiera va su torre centrale? Nel senso, ha senso? Non lo so. Io nel dubbio vado con golem del ghiaccio. Skelly nel mid. Con gelino. Fireball. Connettimi. Skeletrino. Ci ha tirato la snow. Tiro subito il log per togliere il moschettiere avversario. E vado con un altro domatore per valorizzare il mio moschettiere. Vai mosche! E questa è una grande giocata del piccolo Crax. Questa è una grande giocata del piccolo Crax. A livello 15 si conferma col 2.6. Cambierà tutto. Ho skippato il mid ladder. Sono stato diversi giorni bloccati a livello 14 nella Lega Campione. Adesso sarà tutto molto più tranquillo. Forse è la prima volta che divido il video in due parti. E la prima parte è più lunga della seconda parte. Quando c'è un argomento che mi piace. Cioè io mi metto lì. Chiacchiero. Posso parlare pure per ore intere. Ti devo dire. Principino 13 con Fireball 15. Cioè è andato praticamente nel Gulag. Rimosso dal gioco. Con mostro resuscitato non lo prende. Occhio al bariletto. Che è di livello 15. Principino 13 per giocarlo. Devi avere insomma abbastanza coraggio. Lì si frizza qualcosetta. Perfettamento il congi. Sto in hype raga. Sto in hype. Poi ovviamente queste sono le sensazioni. Per quanto riguarda questo primo teaser. Una volta droppato tutto il contenuto. Lo analizzeremo molto più a fondo. Magari se le cose non funzioneranno. Sarò il primo ragazzi a dirvi che la situazione non funziona. Come ho fatto per le evoluzioni. Come ho sempre gestito tutti quanti i giochi. Che ho portato sul canale. Massima trasparenza. Per questo metto 100% onesto quel domatore. Guarda come se l'è fuggita. Bono quel porc rider. Immaginatevi in futuro poter cambiare i king. Praticamente vivi un sogno con Gelino. Messo molto bene. Potrei forse pure aspettare senza tirare il log. Insomma ho preso comunque diversi danni. Lui non può mettere la bombi. Il domatore scavala la bombi. E se mi piace... Ok. Cavaliere. Tirerò due hit. Giusto? Mi sembra di yes. Allora il principino di livello 13 non so se mi conviene firepallarlo. Eh guarda che sfiga però. Eh faccio log. Faccio cavaliere sinistra. E il cavaliere 15 mi ha massacrato ragazzi. Nah brutta sta giocata di cracks. Brutta. Guarda glielo ho fatto recuperare per un cavaliere sulla torre. Guarda che giocata mistica che ho combinato. Che danni che ho fatto. Domatore dal back. Il barile è lungo. Errore da parte dell'avversario. Riesca a congelare. Lui non mi direrà il rocket. Ce l'evocava. Quello mi fa veramente molto male. Ma se riesco a piazzare il moschettiere nel modo giusto. Più il golem del ghiaccio. Ho la super possibilità. Di mettere domatore. Ed eventualmente fireball. Sulla goblin ganges. Bravo cracks. Però certo il principino. Vabbè sta a destra eh. Quindi se riesco a fare una roba di questo tipo. Col congi. A destra ci metterà tre anni per caricare. La risolve cracks. Ragazzi. Video perfetto. Due vittorie con il 2.6 nella nuova Lega. Non avevo mai giocato a livello 15. So contentissimo. 10 minuti quanto? 12-13 minuti di talk about. Del nuovo aggiornamento. Io sto stra in hype. Quello che posso dirvi è che da parte mia. Tutto quello che dovrà essere criticato. Verrà criticato. Più trasparente di così non posso essere. Però non posso negarvi la mia emozione nel vedere un gioco che porto da otto anni evolversi. Prendere nuovo pubblico. Cercare sempre di migliorare il meta. Migliorare il... Pay to win no. Senza pay to win c'è sempre stato. Pay to skip all'ennesima potenza. Però se il gameplay funziona e io l'ho visto alle finali mondiali è fichissimo da vedere Clash Royale a livelli alti. Giocato bene perché quelli so player che hanno le mani. Poi c'è tutto il percorso per arrivare al max dell'account. Ma quello è il percorso che c'è in ogni gioco. Io guardo il gameplay e il gameplay è veramente tanta roba. La ladder è scriptata lo sapete. Like. Iscrivetevi e campanella. Codice Crax alla fine dello shop. So veramente super in hype e carico. Super Sestore ve l'ho detto in descrizione. Vabbè. Ve voglio bene. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao belli. Ciao ciao.